Musica Benvenuti con le anticipazioni della Soppa per una vita, puntate dal 3 maggio all'8 maggio. Incontri, scontri e tanti segreti. Vediamo cosa accadrà. Felipe sarà sempre più protagonista e avrà una cesalite con Lolite e Antonito. In più, dirà Felicia e Susanna di schierarsi dalla sua parte, andando contro Ramon Palacios. Lucia e Telmo si rincontrano. L'ex prete farà anche la conoscenza del piccolo Matteo. Incontrerà persino, stradafargendo tra le strade di Acasias, Samuel Aldai. Samuel è cambiato e racconterà a Telmo che non vorrà assolutamente intromettersi nella sua vita, ma gli racconterà anche un aneddoto e c'è che vede Lucia una donna infelice. Musica Telmo avrà anche da ribattere con Ursula perché non gli ha mai detto la verità su Lucia, c'è che si è sposata e ha un figlio, mentre Samuel cercherà di farsi voler bene da tutto il vicinato. Musica Ramon nel frattempo accetterà l'indulto e quindi uscirà dal carcere, incontrando Felipe sempre più aggressivo nei suoi confronti e la sua dolce piccola Milagros. Iscriviti al canale per non perderti nessun'altra anticipazione della soppopera una vita. Musica 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 Ramon nel frattempo accetterà l'indulto e quindi uscirà dal carcere incontrando Felipe e la sua dorata figlia Milagros. Musica Musica